Non accena a diminuire il livello di PM10 nell'area cremonese, rimangono pertanto in vigore le misure temporanee di primo livello per il contrasto all'inquinamento atmosferico. Il dato drammatico, come sempre e come più volte abbiamo segnalato, è che le centraline della provincia di Cremona registrano i dati peggiori di tutta la Lombardia. La nostra città è infatti l'unica sul territorio regionale che ha mantenuto le misure di primo livello, mentre tutti gli altri territori con tre giorni di PM10, sotto il limite di 50 microgrammi, le hanno revocate. Per la revoca o meno delle misure temporanee si deciderà lunedì 6 novembre, dopo aver esaminato gli effetti benefici, si auspica che la perturbazione prevista per domenica dovrebbe apportare. L'amministrazione comunale ribadisce intanto l'invito a limitare l'orario di funzionamento degli impianti termici e gli spostamenti con mezzi privati, controllando sul libretto di circolazione la classe di appartenenza del proprio veicolo.